buongiorno e benvenuti ad un altro incontro del canale youtube sul neoliberismo dell'associazione sottosopra io sono fabrizio e oggi il nostro ospite è pierre dardot buongiorno professor dardot buongiorno buongiorno professore è un grande onore averla con noi la ringrazio molto a mio nome e a nome di tutta l'associazione per la sua disponibilità l'intervista di oggi con pierre dardot e quella con christian laval possiamo considerarle come un'intervista unitaria con la quale inauguriamo il nostro canale youtube e poterlo fare con due dei più grandi intellettuali del nostro tempo nell'ambito del sì sì nell'ambito del capitalismo neoliberale è senza alcun dubbio una grande opportunità per noi e per voi che ci seguite vi presento pierre dardot è filosofo e professore e ricercatore presso il laboratorio sofia poll dell'università parigi nanterro dal 2004 è anche membro del gruppo di ricerca question marx ha scritto diversi libri ne ricordo alcuni in occasione dell'intervista con christian laval ne ho ricordati già alcuni ne ricordo altri ricordo ad esempio il potere ai soviet l'ombra dell'ottobre 17 e la democrazia diretta di cui l'editore italiano derive e approdi ha modificato un po il titolo rispetto all'originale titolo francese sì un altro libro ricordo marx prenome carl delle edizioni galimar e inoltre ricordo anche guerra la democrazia l'offensiva dell'oligarchia neoliberista è la nuova ragione del mondo critica della razionalità neoliberista due libri che ho già richiamato in occasione dell'intervista con christian laval ma che voglio ricordare visto che sono in riferimento e l'intervista di oggi ricordo che con il professor laval abbiamo discusso degli aspetti più legati alle questioni genealogiche politiche e antropologiche relative al neoliberismo oggi con il professor dardò discuteremo delle questioni più istituzionali relativo al neoliberismo dell'unione europea come espressione dell'ordoliberismo delle relazioni tra oligarchia e potere politico vorrei iniziare con una domanda un po più generale mettendo in evidenza l'importanza di una parola chiave cioè la parola razionalità termine oggetto di riflessione da sempre nella storia delle idee penso ad esempio a marx a weber e anche a diversi filosofi francesi sarebbe complicato richiamarli tutti ma a proposito dei filosofi francesi ho letto di recente una discussione tra gilles de leuze e felix gutterie dove de leuze mettendo in evidenza il carattere patologico della razionalità capitalista dice che all'origine di ogni ragione il delirio la deriva e che tutto è razionale nel capitalismo tranne il capitale e il capitalismo quindi facendo un collegamento con il vostro lavoro come sappiamo si intitola la nuova ragione del mondo quindi il termine ragione il termine razionalità centrale le chiedo che cosa si intende per ragione e che cosa c'è di razionale nella razionalità capitalista neoliberale questa è una domanda molto ampia ma in effetti abbiamo scelto il termine di ragione il termine di ragione può essere inteso in diversi modi perché può essere una questione della facoltà posseduta da un soggetto che si manifesta nella produzione di argomenti nell'ambito di una discussione ebbene ovviamente non è in questo senso che potremmo prendere il termine razionalità è piuttosto in un senso generale che sarebbe equivalente a quello di logica diciamo che la ragione del capitalismo neoliberista non è altro che la logica del capitalismo neoliberista quindi una logica che si ritrova certamente in termini diversi incarnata da configurazioni nelle relazioni sociali tra uomini ma è una logica che tende ad essere autonoma forse il collegamento che si può fare con marx è che parla della legge generale dell'accumulazione capitalistica ne parla nel primo libro del capitale dice che questa legge ha l'effetto di una maggiore centralizzazione del capitale ma quando parla di questa legge ne parla in modo estremamente generale non parla come nella citazione di Deleuze che hai fatto delle diverse ragioni del capitale ma parla di una logica del tutto o di una legge dell'intero movimento di accumulazione capitalistica la per noi è importante ma allo stesso tempo insufficiente a caratterizzare quella particolare figura storica che è quella del capitalismo neoliberista perché perché se non facciamo questa distinzione in quel momento ci sarà la tendenza a dedurre tutto a far derivare tutto dalla logica generale dell'accumulazione capitalista compresi i tratti distintivi che sono proprio quelli del neoliberismo ebbene non è affatto il nostro modo di procedere noi consideriamo che c'è certamente una logica generale dell'accumulazione di capitale ma ci sono figure istituzionali giuridiche istituzionali che sono singolari che rientrano in questa logica dell'accumulazione capitalistica ma che non sono ridotti ad essa in altri termini stiamo parlando proprio di una razionalità neoliberista e non semplicemente della razionalità del capitalismo e quindi diciamo che questa razionalità o questa logica che è quella del capitalismo neoliberista è caratterizzata dalla generalizzazione della norma della concorrenza quindi prendiamo la nozione di razionalità da un angolo estremamente preciso non ne parliamo in un modo così generale come deluse probabilmente perché c'è una differenza di approccio che ricordate queste distinzioni deluse parla volentieri seguendo marx del capitalismo in generale del modo di produzione capitalistico ricorda in particolare il passaggio di marx che gli piace molto dove si tratta della distinzione tra barriere o limiti esterni al capitale e il limite immanente che il capitale costituisce per se stesso non riprendiamo questo approccio ne parliamo in marx a nome carla ma nelle due opere chi ha eccitato e che si riferiscono alla neoliberismo non riprendiamo questa distinzione lì perché siamo piuttosto reticenti a questo recupero in quanto induce una strategia che è quella del desiderio in quanto dispiega appunto la logica della territorializzazione che è quella del capitale poiché quest'ultimo continua a liberare flussi e contemporaneamente ricodificarli riterritorializzandoli ecco perché non parliamo così della razionalità del capitalismo in generale ma della razionalità di un certo tipo di capitalismo è una distinzione che per noi è veramente molto importante ah non ti sento più ah ecco sì d'accordo ma non ti preoccupare grazie professore ho detto grazie per la sua risposta adesso come dicevo passiamo ad una domanda più legata agli aspetti istituzionali al tema dell'unione europea voi dedicate diverse pagine a questa tematica in particolare nella nuova ragione del mondo dedicate l'undicesimo capitolo che si intitola le origini ordoliberali dell'unione europea potrebbe parlarci di queste origini? sì questo è un aspetto abbastanza sconosciuto un po' troppo poco conosciuto a meno adesso ma all'epoca in cui scrivevamo nella 2009 la nuova ragione del mondo era qualcosa di poco riconosciuto da accademici e ricercatori quindi penso che bisogna fare attenzione il trattato di roma è un trattato che risale a 1957 è il trattato inaugurale è un trattato fortemente influenzato dall'ordoliberismo tedesco ma non è una coppia fedele della dottrina ordoliberale è qualcosa di più ampio cioè che fornisce un quadro giuridico ancora troppo generale non sufficientemente vincolante non sufficientemente preciso ma che tuttavia è già profondamente intriso dell'influenza delle idee ordoliberiste beh quindi questo è un primo punto molto importante ci sono molte persone che l'hanno notato in particolare c'è un autore americano qui il Slobodian che in un libro ha osservato che due anni fa ha esplorato questo aspetto per mostrare precisamente che sono solo due o tre anni nel 62 1962 così diversi anni dopo il trattato di roma che le cose iniziarono a formalizzarsi e sottolinea in modo molto corretto a mio avviso una particolarità la costruzione europea è stata realizzata a partire dagli anni 62 e 63 era costruita attorno a due principi il primo principio era che la corte di giustizia europea aveva un potere superiore a quello della legge nazionale di ciascun stato e il secondo principio molto importante è che ogni cittadino europeo può appellarsi direttamente alla corte di giustizia europea per far valere i propri diritti anche contro una misura presa al proprio stato quindi è qualcosa di assolutamente essenziale perché ovviamente la costruzione dell'europa è avvenuta un po in collisione non è una specie di blocco omogeneo un percorso trionfante per niente c'era attrito ce l'è sempre d'altronde e prendo questo esempio qui guardate la differenza tra la corte europea dei diritti dell'uomo e la corte di giustizia europea la prima esprime opinioni che spesso sono in contraddizione con le decisioni della seconda vale a dire che abbiamo davvero una politica abbastanza attiva di difesa dei diritti umani in qualsiasi modo che sia dalla corte di giustizia dalla corte europea dei diritti dell'uomo ma abbiamo un allineamento quasi totale dei decreti delle sentenze della corte di giustizia europea sulle politiche neoliberiste in termini di deregolamentazione del lavoro in materia di tassazione in questioni di molti di molti altri aspetti della della vita dell'unione europea e quindi questo è qualcosa di molto importante mi sembra perché abbiamo come punto di partenza l'idea che ci sono due soggetti ci sono certamente gli stati ma anche individui e che gli individui possono appellarsi direttamente contro la vita dei loro stati o le misure emanate dai loro stati a un organo europeo ecco miss macker che è stato un membro molto influente della commissione europea per un decennio dalla 1960 1970 vedete qualcuno che ha avuto un posto importante insisteva sul fatto che veramente l'europa nel senso in cui lui la intendeva era costruita lì su questi due principi e questo credo sia assolutamente essenziale dopo aver accumulato le norme le abbiamo sovrapposte una sull'altra ci siamo assicurati che le opinioni della corte di giustizia europea prevalgano sul diritto nazionale quello che viene chiamato il linguaggio espertocratico che è quello dell'unione europea diritto comunitario si è ritenuto che il diritto comunitario dovesse prevalere a tutti i costi sulla legge di ciascuno stato indipendentemente dal livello che nella legge di uno stato poteva essere considerato diritto nazionale ma è stata davvero un'affermazione degli anni 70 è stato detto in modo molto forte il diritto comunitario prevale sulla legislazione nazionale questo è un punto assolutamente decisivo quindi è così che è costruito con poi ovviamente tutto quello che è successo il trattato di lisbona i vari referendum non moltissimi che hanno avuto luogo che ovviamente hanno dato molto fastidio ai leader ai leader dell'unione europea beh tutto questo è quindi molto importante da capire questo è in effetti stiamo parlando di un accumulo di norme e stiamo parlando di un impero di norme per la costruzione di un grande mercato europeo quindi dobbiamo riconoscere che la cosa principale è stato il ruolo svolto dal diritto e la corte di giustizia europea non ha fatto altro che nascondere dare diciamo questo posto prioritario al diritto della costruzione del grande mercato europeo questo è assolutamente fondamentale ci sono poi alcune cose in un libro che uscirà a marzo o aprile un nuovo libro sulla neoliberismo con cristiane e due giovani altri due giovani ricercatori stiamo parlando di costituzionalismo di mercato l'espressione è abbastanza importante perché siamo abituati a considerare che la costituzione è al di fuori della sovrastruttura politica che non riguarda assolutamente il livello dell'economia e proprio lì è ciò che è piuttosto caratteristico nel neoliberismo e in particolare nel neoliberismo europeo e cioè l'idea di costituzionalizzare le regole del diritto privato quindi tutte le regole relative alla costruzione dei mercati tutte le regole relative alla proprietà tutte le regole relative al pareggio di bilancio tutte le regole relative alla stabilità monetaria eccetera eccetera era così che sono state effettivamente fatte le cose quindi vedete il 1957 non è stritto senso un trattato urdoliberista è un trattato che è largamente influenzato dall'urdoliberismo o neoliberismo nella sua versione tedesca ma è solo più tardi diversi anni dopo nelle correnti degli anni 60 ed inizio degli anni 70 che l'unione europea sarà costruita su basi interamente neoliberiste d'accordo professore grazie rimanendo su questa tematica mi piacerebbe affrontare la questione relativa alle istituzioni e al diritto infatti ad esempio lei nella sua risposta precedente ha parlato dell'impero del diritto quindi dell'unione europea che funziona come un impero del diritto quindi vorrei chiederle come funziona questo impero ed inoltre voi dite nel vostro lavoro che per l'ordoliberismo le istituzioni e il diritto hanno giocato un ruolo chiave per garantire la possibilità di sopravvivenza del capitalismo al di là delle sue crisi quindi vorrei approfondire questo aspetto sì quindi questo si ricava dal loro punto di partenza il loro punto di partenza che ci sono precisamente figure singolari del capitalismo che devono essere analizzate nella loro singolarità e non in generale ma nel loro spirito ciò significa una cosa dal momento che abbiamo a che fare con questa o quella figura storicamente singolare del capitalismo e che questa figura è stata costruita a partire da norme legali deve essere anche possibile con l'intervento di nuove norme giuridiche costruire un'altra figura storicamente unica di capitalismo quindi è molto importante perché queste sono persone che hanno imparato molto da max weber e altri pensatori sul ruolo del diritto cioè l'idea che il diritto non sia affatto una sovrastruttura ma al contrario è pienamente parte dell'infrastruttura e questo è centrale questo è fondamentale perché ne hanno tratto una serie di lezioni pratiche inclusa l'idea che bisogna iniziare a modificare il diritto era necessario iniziare con l'introduzione di un nuovo tipo di diritto appunto un diritto regolato dalla concorrenza quindi il diritto penale privato in particolare il diritto privato ovviamente dovrà essere formalizzato sulla base di una certa idea di concorrenza come norma generale e poi era necessario allineare armonizzare tra virgolette su questo su questo solo su questo livello le istituzioni europee si trattava quindi di una costruzione delle istituzioni europee per mezzo del diritto questo è molto importante non è solo il grande mercato che è costruito dalla legge sono le istituzioni che si costruiscono loro stesse come fonte del nuovo diritto questo è questo è un meccanismo abbastanza circolare non c'è una sorta di unica fonte chi avrebbe il ruolo di un centro da cui sarebbero diffuse e poi adottate tutte le norme no ci sono istituzioni che sono abbastanza diverse e che si permettono di produrre norme che prevarranno sempre più sull'autorità degli stati nazionali e si costruiranno loro stesse proprio come la fonte di questa legislazione di questo diritto di mercato quindi non è innanzitutto un centro immediatamente identificabile da cui verrebbero prodotte tutte le norme e poi quindi qualcosa che assomigli come direi a una generalizzazione delle norme sul piano pratico sono le istituzioni dell'unione europea che si costruiscono apparendo essendo svolgendo il ruolo attivo di una fonte di norme giuridiche ecco perché parlo di circolarità sì d'accordo professore grazie adesso per farle la domanda successiva vorrei mostrarle un video che potrebbe aiutarci a riflettere su un'altra tematica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bene quindi abbiamo visto il video adesso sembra di rivivere sempre lo stesso film perché sembra che per far fronte alle crisi sembra che ci siano sempre gli stessi strumenti da utilizzare ad esempio voi dite nella nuova ragione del mondo invece di mettere in discussione la logica che ha generato la crisi bisogna spingere sempre di più con questa stessa logica e operare per il rafforzamento indefinito di questa voi lo avete detto voi lo avete detto nella nuova ragione del mondo nel 2009 oggi sembra che oggi sembra che i soli strumenti per far fronte alla crisi siano dei prestiti in cambio di riforme si parla sempre del debito come strumento economico lo si osserva quindi sotto il profilo economico potrebbe aiutarci ad analizzare il debito come strumento di potere e infine a proposito del video che abbiamo visto questi prestiti europei che prendono retoricamente il nome di next generation sono effettivamente espressione di un cambio di prospettiva quindi di una messa in discussione della logica neoliberale l'unione europea è diventata finalmente autenticamente sociale ed ecologica sì allora questo è davvero qualcosa che non è del tutto nuovo si ha l'impressione al contrario di una riproposizione di un certo numero di pratiche che hanno già avuto corso in passato e ciò che si può dire infatti al riguardo al debito è che è uno strumento di disciplina nel senso che la disciplina consiste nell'imporre un quadro di azione ad agenti e individui all'interno del quale devono essere preventivamente collocati per pensare, calcolare, definire la loro linea di azione è un'accezione della norma di disciplina che abbiamo ampliato rispetto a quelle che troviamo in Foucault perché in Foucault si sa che quando si parla di disciplina si parla delle diverse tecniche di potere destinate a plasmare i corpi, a renderli più docili per stoggiogarli eccetera c'è un significato leggermente diverso e quindi disciplina come imposizione di un quadro contro il quale i soggetti devono agire quindi hanno delle possibilità ma allo stesso tempo ci si assicura che il quadro sia così restrittivo da rendere i comportamenti esattamente così come è voluto ecco questo è il significato del concetto di disciplina quindi non è qualcosa che è direttamente non è il panopticum di Bentham di Bentham nel senso classico del termine non sono proprio le discipline di cui parla Foucault a proposito del XVIII e XIX secolo vale a dire la prigione, l'ospedale, la caserma beh è un po' diverso ma è molto importante capire perché l'abbiamo visto in particolare con la crisi greca del 2015 che è stata una rivelazione molto importante per molte persone di ciò di cui era capace l'Unione Europea cioè usare proprio il debito come strumento di disciplina quindi ci sono diversi livelli a cui possiamo considerare che il debito gioca il ruolo di uno strumento di disciplina che può ovviamente essere il rapporto con un governo come quello di Sarisa nel 2015 in Grecia in quel momento è un mezzo per costringere un governo a rinunciare alla politica per cui era stato eletto e infine costringerlo ad applicare misure che non facevano affatto parte del suo programma che era anche direttamente contrario al suo programma e poi c'è il debito così nel video vediamo chiaramente che agisce a diversi livelli poiché è una questione di governi, stati ma anche aziende ed è una questione di individui è una questione in particolare della nuova generazione di giovani e in particolare degli studenti questo è un punto molto importante perché lì abbiamo qualcosa di abbastanza specifico che non esiste a livello di un governo nazionale e ciò che sta accadendo è che esista una relazione soggettiva tra il debito e l'individuo che è indebitato colui che ad esempio è portato a prendere in prestito e quindi a indebitarsi per poter finanziare i suoi studi e ci sono sempre più casi in Europa vent'anni fa potevamo consolarci in Italia o in Francia dicendo ah è qualcosa che sta accadendo negli Stati Uniti ma non è ancora il caso nostro ma ora lo è e il caso è così in tutta Europa era più o meno come direi ben imposto ma ciò che è importante è che qui abbiamo davvero qualcosa che rientra in una relazione soggettiva perché perché alla fine si farà una sorta di ricatto si imporrà una sorta di ricatto agli studenti ai singoli scommetteremo sul potenziale reddito che possiamo trarre proprio dal capitale umano finanziato durante la maggior parte degli studi ecco quindi queste sono davvero due forme piuttosto precise facciamo questa distinzione credo nella crisi come direi nel libro del 2016 guerra alla democrazia ma ci sembra estremamente importante perché oggi vediamo che non solo non è qualcosa non è solo qualcosa a cui il neoliberismo rinuncia è quello qualcosa al contrario qualcosa che attende di essere rafforzato ecco in un modo o nell'altro professore abbiamo cercato di mettere in evidenza alcuni aspetti dell'unione europea sotto il profilo istituzionale secondo lei è possibile di modificare dall'interno l'unione europea per rispondere per far fronte ai bisogni democratici dei popoli europei sì tenendo conto della costruzione della logica che ha preseduto la costruzione dell'europa dell'unione europea non ci sembra possibile non ci sembra possibile modificarla dall'interno ciò che è possibile invece è usare l'unione europea come campo di lotta cioè saper cogliere saper cogliere alcune contraddizioni all'interno delle istituzioni degli organi dell'unione europea per portare avanti una lotta mi sembra di tutto possibile soprattutto non dobbiamo abbandonare il campo il campo di lotta che costituisce l'unione europea dobbiamo semplicemente dissociare ciò che è qualcosa di abbastanza desiderabile da come posso dire da una sorta di speranza di riforma dell'unione europea dall'interno Varoufakis ci ha provato non ha ancora rinunciato del tutto a questa impresa ma tutto quello che è stato fatto in questa direzione è fallito proprio per la logica su cui si fonda l'unione europea quindi a nostro avviso c'è solo un modo è quello della rifondazione radicale dell'Europa su basi pienamente democratiche quindi da parte dei cittadini cioè dalla base e non il contrario mentre ciò che è stato fatto dal 1957 sono negoziati i compromessi tra stati è la logica di ciò che viene chiamato interesse statale nel libro che abbiamo pubblicato alla fine di agosto e all'inizio di settembre dominare si tratta appunto di questa logica infernale dell'interesse statale guardate il consiglio europeo è composto dai capi di stato è un accordo tra i capi di stato guardate la commissione europea la sua composizione è fissata da una sorta di contrattazione tra le diverse formazioni politiche il partito popolare europeo e il partito socialista europeo è infatti un comitato che è di fatto approvato dal punto di vista della sua composizione dal Parlamento ma il Parlamento non ha l'iniziativa delle leggi è solo la commissione europea da avere l'iniziativa delle leggi quindi abbiamo davvero una concentrazione di potere tra le organizzazioni che non sono organizzazioni elette che sono organizzazioni imposte dall'alto e questo è ciò con cui dobbiamo rompere completamente quindi quando noi pensiamo all'idea di riformare l'unione europea dobbiamo tenerne conto altrimenti si parla si parla semplicemente di niente quindi una rifondazione radicale a partire dall'imperativo della democrazia dei cittadini e non una riforma interna come se ci potesse essere una democratizzazione dall'alto dell'unione europea che non ci sembra possibile d'accordo a proposito di ciò cambiamo o meglio no cambiamo perché adesso vorrei parlare dell'oligarchia che è un'altra tematica che è strettamente legata al tema dell'unione europea e delle istituzioni in generale noi liberali nel libro guerra alla democrazia voi sottolineate l'importanza di riprendere il senso originale di certe parole in particolare dite che è molto importante riprendere il concetto di democrazia potrebbe ricordarci a questo punto che cosa significa per democrazia che può essere credo che abbiamo abbiamo dimenticato il significato e anche che cosa si intende per oligarchia e di come la distinzione tra democrazia e oligarchia può aiutarci a comprendere la nuova forma di capitalismo neoliberale e il carattere antidemocratico del neoliberismo sì quindi la prima cosa da dire è che il neoliberismo ha fatto di tutto per svuotare il concetto di democrazia dal suo contenuto se prendiamo qualcuno come Hayek ci rendiamo subito conto che lui riduce la democrazia a una tecnica di nomina dei leader per soffragio cioè votando non è niente di più la democrazia quindi non è un bene in sé e lui stesso dice anche ci può essere una democrazia totalitaria perché ci sono persone che possono essere elette ma allo stesso tempo il cui potere non è limitato il potere deve essere limitato dal diritto ma nella sua mente il diritto è diritto privato diritto privato diritto penale nella concezione di Hayek quindi dobbiamo tornare alle origini dobbiamo tornare alle origini quindi ci siamo riferiti ad Aristotele in particolare a un piccolo testo che può essere di uno pseudo Aristotele non sappiamo se è davvero Aristotele ma che si chiama la costruzione degli Atenesi e in cui Aristotele parla del 403 403 avanti Cristo perché proprio è la rifondazione della democrazia dopo la Tilania dei 30 i 30 tilanni che erano stati insediati da Sparta da quando Sparta era vittoriosa e in quel momento c'è una riflessione giustamente di Aristotele su su cosa è la democrazia qual è la differenza tra democrazia e oligarchia eccetera ebbene ciò che è molto importante è capire che quando i democratici parlano di democrazia nel 403 dopo il rovesciamento dei 30 dei 30 tiranni hanno in mente qualcosa di ben preciso cioè la vittoria ottenuta dal popolo contro l'oligarchia questo è molto importante perché la nozione democratica vedete che che generalmente è completamente svuotata di ogni significato attivo e prende qui di colore se così si può dire diventa di nuovo molto precisa poiché è una vittoria vinta per conto del popolo contro un avversario che è l'avversario dell'oligarchia quindi se in definitiva l'opposizione tra democrazia e oligarchia e nella mente di coloro che sono contemporanei di questo evento non c'è dubbio che quando parliamo di oligarchia stiamo parlando di questa forma di potere che consente a chi concentra la ricchezza nelle proprie mani di poter governare e di conseguenza dominare il resto dei cittadini la grande massa dei cittadini quindi oligarchia bisogna fare molta attenzione a questo perché aristocrazia non è sempre un termine peggiorativo tra i greci di quel tempo ma oligarchia è sempre qualcosa di molto peggiorativo come se fosse incompatibile con un governo costituzionale in generale e c'è questa precisione che porta appunto Aristotele che consiste nel dire la democrazia è il regime in cui i poveri sono portati a esercitare il potere in quanto poveri e l'oligarchia è il regime politico in cui appunto il più fortunato e i ricchi sono portati a esercitare il potere al loro favore quindi questa idea non parla dell'interesse comune non parla proprio dell'interesse comune koinos come dicono i greci ma dell'interesse privato dei pochi cioè dei ricchi quindi è molto interessante perché questo dà un contenuto sociale alla nozione di democrazia mentre oggi ci comportiamo come se fosse proprio il il neoliberismo è riuscito a sovvertire il significato delle parole perché ci siamo abituati ormai sono passati 40 anni da quando il neoliberismo l'ha importata politicamente da 40 anni siamo abituati a considerare che la democrazia è prima di tutto una tecnica quella delle elezioni ecco e così svuotiamo la nozione di democrazia da ogni contenuto sociale ecco questo è un punto essenziale e c'è aggiungerei un secondo significato a cui siamo abituati quello di democrazia liberale classica con principi difficilmente conciliabili con il neoliberismo prendo un principio fondamentale che è quello della divisione dei poteri questo principio è costantemente violato dai neoliberisti perché per quanto curiosa possa sembrare cercano di concentrare il potere giudiziario legislativo e governativo in poche mani in poche in estremamente poche mani quindi prende la forma di quella che chiamiamo espertocrazia cioè dominio esercitato da esperti esperti politici esperti finanziari esperti economici ciò significa che vediamo persone che erano governatori di questa o quella banca poi diventare ministri o il contrario e quindi c'è una grandissima porosità come quella tra competenza finanziaria e competenza politica quindi anche questo è abbastanza contraddittorio quindi il neoliberismo non solo è assolutamente incompatibile con la democrazia nel senso del regime popolare di diritto che i gracci mantenero sotto quel nome ma è anche incompatibile con la democrazia liberale classica almeno con il principio della divisione dei poteri si trovo che sia estremamente importante riflettere sul senso originario delle parole perché oggi abbiamo delle parole vuote che utilizziamo ad esempio con Cristian Laval abbiamo discusso della sinistra che trovo essere una di queste parole vuote e adesso sempre rimanendo sul tema dell'oligarchia voi parlate di blocco oligarchico non liberale parlate di corruzione sistemica tra il mondo degli affari la burocrazia di stato e la politica professionale quindi che relazione esiste tra le grandi imprese e le istituzioni politiche da questo punto di vista a proposito di blocco oligarchico non liberale un altro concetto importante su cui riflettere da chi è composto potrebbe farci degli esempi in che cosa consiste la sua potenza si quindi prima di tutto la composizione anzi stiamo parlando di quattro elementi che entrano nella composizione del blocco oligarchico ovviamente vengono prima l'aristocrazia di stato e i governi e poi si tratta anche di ciò che prende il nome di corporate power cioè potere imprenditoriale soprattutto la finanza ruolo svolto da chi è a capo della finanza e poi si parla ovviamente anche della grande stampa che plasma l'opinione e infine si parla di alcune istituzioni universitarie perché non dobbiamo nemmeno scagionare accademici e considerare che gli accademici sono completamente innocenti no ci sono molte istituzioni universitarie che collaborano alla fabbricazione di questa opinione favorevole alle opinioni neoliberiste e dobbiamo esserne pienamente consapevoli ma ci sono molti esempi ma non so prima di tutto l'esempio francese Macron era quindi è stato dipendente della finanza è uno che ha fatto carriera in questo settore è stato reclutato dalla banca Rothschild di cui era davvero in una posizione manageriale all'interno di questa banca e poi divenne ministro di François Hollande che era un ministro socialista con molte virgolette e poi divenne presidente della repubblica vedete il percorso il percorso è molto interessante perché rivela proprio la purosità la facilità con cui si passa da un'istituzione all'altra si passa da un'istituzione come direi un'istituzione di diritto pubblico o un'istituzione di diritto privato tutto ciò è assolutamente normale in questo questa pratica che è molto che è molto comune molto provato e ci sono ci sono esempi ad altri livelli ad esempio c'è stato a maggio non so se ricordate quando c'è stata questa crisi su scala europea perché c'era una terribile rivalità dobbiamo ricordare che il macron aveva aveva legato scorte di milioni di maschere che sono state prodotte da un'azienda credo fosse una società svedese per un mese per un mese in cui l'italia era in una situazione terribile anche quando in spagna vi era una situazione piuttosto terribile ne abbiamo parlato con cristian in un articolo che abbiamo fatto su media francese abbiamo parlato di banditismo di stato per qualificare questo tipo di pratica va detto che quello che è successo dopo è stato che hanno provato non c'era una vera solidarietà comune ma quello che hanno cercato di mettere in atto è stato un accordo avviato da un incontro ufficiale tra la Merkel e dall'altra parte Macron e questo era ciò che presentavano come una mutualizzazione del debito quindi questo è stato poi ripreso la mutualizzazione del debito e abbiamo assistito a qualcosa di incredibile tutti i media i grandi media mainstream hanno cantato lo stesso ritornello dicendo è fantastico è una mutualizzazione del debito tra i paesi europei l'egoismo lascerà il posto alla solidarietà in realtà è un montaggio sono 750 miliardi credo in realtà c'è una parte di sovvenzioni c'è una parte dei prestiti e torniamo alla questione dei prestiti all'indebitamento alla condizionalità dei prestiti che è sempre la stessa logica infernale che è quella che il neoliberismo ha sempre imposto e quindi mi ha colpito perché a chi è andato propagandisti dell'unione europea che arrivò a confrontare quanto stava accadendo lì questo tipo di piani di piani di mutualizzazione tra virgolette del debito con il piano del primo segretario del tesoro dei giovani stati uniti nel 1790 il segretario del tesoro si chiamava Hamilton e hanno detto alcuni hanno detto ecco il momento emintoniano dell'unione europea perché abbiamo trovato un accordo per mutualizzare il debito tranne che nel 1790 negli stati uniti era davvero un debito del tutto comune ai 13 stati che componevano gli stati uniti quindi non è affatto così non è affatto così c'è un pacchetto finanziario con una parte di sussidi una parte quindi di prestiti soggetti a delle condizioni è una mutualizzazione di una piccola parte del debito di una piccola parte del debito non parlo di una misura che sarebbe consistita nell'allocazione di una quota della spesa pubblica dal livello nazionale a quello europeo perché per farlo sarebbe stato necessario in quel momento scontrarsi frontalmente con la sovranità degli stati per quanto curioso possa sembrare il neoliberismo è molto bravo a usare la sovranità degli stati nazionali per raggiungere i suoi fini per imporre una serie di obiettivi quindi troviamo sempre la logica dell'interesse statale di cui ho parlato prima ma vediamo come funziona quindi questo è un buon esempio perché tutta la stampa ha preso il sopravvento quindi i media mainstream hanno detto è fantastico è la mutualizzazione per una volta la solidarietà prende il sopravvento eccetera e poi finalmente il governo è il responsabile dello stato in cui la maggior parte dei paesi hanno detto la stessa cosa e poi e poi eccoci qui eccoci qui non siamo usciti da questa montatura e questo non è affatto ciò che richiede la solidarietà comune la solidarietà comune tra i paesi europei richiederebbe molto di più di quanto è stato fatto quindi in realtà questo è questo è un esempio abbastanza recente e che mostra che proprio questo ci riporta alla questione dei prestiti di cui stavamo parlando prima questa volta sono i prestiti a livello dei governi e degli stati e prestiti e non prestiti nel senso di indebitamento studentesco soggettivo ma comunque è una forma molto interessante perché particolare e specifica del neoliberismo d'accordo professore purtroppo siamo arrivati alle conclusioni la scorsa volta con il professor Cristian Lavalle nelle conclusioni è emerso il concetto il concetto di comune che è un concetto estremamente importante quando si parla delle alternative al neoliberismo possiamo vedere che il carattere sistemico la forza governamentale del neoliberismo mostra un carattere possiamo dire quasi invincibile di queste forze in più vediamo ad esempio in Francia ma non solo che tutte le rivolte sono limitate schiacciate da governi securitari sempre più violenti irrepressivi di polizia potrebbe darci qualche idea di prassi politica una strategia coerente di forze di sinistra per poter lottare contro tale geomonia neoliberale quindi il punto è ciò che intendiamo con il termine strategia ebbene di solito almeno in una certa tradizione di sinistra la strategia è prima di tutto quella di un partito o di una coalizione di partiti che stanno pensando di prendere il potere attraverso questa coalizione elettorale beh quello non sembra un modo per noi oggi per niente prima non funziona più non è più efficace non è più efficiente e poi ci sembra di voltare davvero le spalle alle necessità dell'ora alle necessità del momento quindi Cristiano ha parlato di comune ed è giusto ma allo stesso tempo bisogna essere attenti io sono ovviamente sempre molto favorevole agli esperimenti dei comuni ma credo che tu debba essere molto attento alle coalizioni di cittadini che possono insediarsi su scala immediatamente trasnazionale quello che voglio dire è che per due anni un anno e mezzo due anni abbiamo assistito alla costituzione di una coalizione di cittadini su temi o questioni molto diversi tra loro ricordate la questione del clima quindi all'inizio si trattava di petizioni benintenzionate ma prive del necessario radicalismo ma le cose stanno cambiando sulla questione del clima ad esempio ci sono sempre più attori di queste coalizioni attori attività militanti che devono capire che se non costituiamo lì un'asse sufficientemente radicale su questa questione non se ne arriveremo mai a capo della resistenza dei governi e degli stati e ciò che è molto interessante è che in queste coalizioni ad esempio sul clima sono gli stati in quanto tali a essere messi in discussione noi chiediamo e i cittadini chiedono agli stati di rispettare i loro impegni quindi ovviamente possiamo pensare quello che vogliamo con l'accordo di Parigi ad esempio sul clima per noi è stato un record che era molto di sotto del necessario perché non hanno nemmeno riconosciuto la distinzione tra combustibili fossili ed energie rinnovabili ma tuttavia ci sembra del tutto appropriato lottare contro contro tali abbandono da parte da parte degli stati del loro passato impegno questo è un primo punto ma oggi c'è vorrei fare altri esempi mi sembra che questo sia un movimento abbastanza importante e vivo anche in Italia il movimento femminista il movimento femminista ha per noi nella situazione attuale un'importanza strategica cruciale perché c'è anche un movimento di coalizione di donne e cittadini che sono come dire sin da subito trasnazionali quindi prendo l'esempio dell'America Latina conosco un po' la cosa cosa succede in Cile o in Argentina e persino in Spagna queste sono cose che sono molto incoraggianti perché se prendi l'esempio del Cile si ha un movimento a cui possiamo tornare che è molto importante che è quello che è iniziato il 18 ottobre 2019 con dimostrazioni mostruose e che è incentrato sulla questione della democrazia e apertamente diretto contro il neoliberismo e in questo movimento le femministe sono state una componente molto decisiva che ha svolto un ruolo assolutamente importante e ci sono alcuni amici italiani che hanno espresso il desiderio delle donne cilene di continuare ad agire a livello transnazionale e non solo nazionale e considererei giustamente il movimento cileno per pensare a ciò che può essere una strategia perché lì certamente hai hai particolari circostanze nazionali nazionali perché sono legati alla dittatura di Pinochet al colpo di Stato del 1973 alla Costituzione del 1980 ma ciò che è notevole nel movimento attuale quindi sia un movimento che è stato mantenuto nonostante nonostante i severissimi confini ai quali sono stati sottoposti i cileni e dopo un anno si è conclusa con una vittoria elettorale quella del sì a una nuova Costituzione il 25 ottobre scorso questa è una lezione straordinaria perché mi sembra che l'unico modo per opporsi a un'oligarchia che per di più stava facendo è una sorta di colpo di Stato che pignera l'oligarca il capo degli oligarchi dal 20 ottobre due giorni dopo i primi disordini nella metropolitana ha detto siamo di fronte a un potente nemico e con questo significava i manifestanti e abbiamo visto i mezzi blindati pattugliare le strade di Santiago e ciò che è successo ciò che ha fatto come potrei dire che questi questi piani sono stati completamente sventati è la forza di questa mobilitazione che è diventata una vera e propria rivoluzione popolare con assemblee di cittadini ciò che li chiamano il cabildos che sono assemblee di quartiere autoconvocate dai cittadini e che hanno dato alla mobilitazione una forza straordinaria sono rimasto colpito perché all'epoca ero proprio all'inizio di novembre in Cile durante queste manifestazioni e ho scoperto che si trattava di un movimento che era di una forza e un vigore piuttosto piuttosto straordinario e che questo mostra come proprio una mobilitazione popolare una rivoluzione nel senso nel senso buono del termine una rivoluzione popolare una vera e propria rivoluzione popolare possa sconfiggere i piani dell'oligarchianio liberista lì era a livello nazionale ma non è finita non è finita perché c'è una prossima consultazione ad aprile e la massa dei cittadini cileni il 25 ottobre si è espressa contro una convenzione mista quindi la convenzione mista significa che ci sono il 50 per cento delle persone che compongono la convenzione che sono rappresentati dai partiti e il 50 per cento dei delegati che sarebbero eletti direttamente dai cittadini l'80 per cento degli elettori in Cile il 25 ottobre ha dichiarato no non vogliamo la convenzione mista vogliamo una convenzione costituente con delegati eletti direttamente dal popolo basandomi su quanto fatto da tale movimento e da cosa ho ottenuto non sappiamo affatto cosa accadrà in futuro però mi sembra che la strategia debba essere proprio questa la fine deve essere attorno all'asse che è quello della democrazia questo è davvero è un movimento senza leader non c'erano non c'erano leader è molto importante questo il politico i partiti sono stati messi fuori gioco perché i manifestanti erano molto sospettosi delle manovre dei partiti politici e abbiamo un movimento che è riuscito a imporre una schiacciante maggioranza di voti a favore di nuove costruzioni in tali condizioni beh è è comunque qualcosa di straordinario dobbiamo pensare a quello che è successo a quello che è successo lì in Cile a cosa continua a fare è una lezione davvero straordinaria in materia di strategia ecco i miei liberisti non hanno paura di ricorrere se necessario alla guerra civile sono pronti a farlo e la storia mostra che quando era necessario dal punto di vista dei loro interessi non hanno esitato a farlo l'unico modo per sconfiggere ottenere vittorie è proprio farlo sulla base di un'ampia rivoluzione popolare incentrata sulla democrazia l'uguaglianza e la democrazia la strategia deve essere una strategia la strategia di forza che vuole porre fine al neoliberismo è una strategia di uguaglianza e una strategia di democrazia e finirei con questo ma uno degli slogan che abbiamo visto sui muri di Santiago e delle altre grandi città del Cile era dove è nato il neoliberismo lì lì morirà vi rendete conto quello slogan era la nuova costituzione era la rivendicazione centrale ma sui muri ovunque c'erano questi slogan che erano incisi beh e questo è straordinario perché non è una previsione non va intesa come una previsione ma dovrebbe essere inteso come un performativo tocca a noi cittadini del Cile oggi mettere fine a questo regime non solo per porre fine a Pinochet che già è stato fatto ma ha lo stesso regime neoliberista ecco questa è credo una lezione una lezione di strategia assolutamente essenziale professore siamo arrivati alle conclusioni abbiamo finito questa piacevole discussione la ringrazio davvero molto per queste idee preziose per queste riflessioni come ho detto al professor Laval vi aspettiamo oltre che online in questo canale youtube anche speriamo di potervi incontrare in presenza a Milano spero che questo possa essere presto possibile la ringrazio ancora a presto a presto grazie